Oggi mi sono messo la maglietta del mio supereroe preferito perché voglio parlare di una cosa che negli ultimi giorni mi sta ronzando nel cervello e che mi sta dando un po' fastidio, proprio come il caldo. E infatti non è una cosa bella, il contrario. Si chiama presunzione dell'ignoranza. Invade tutti quanti i campi e perciò è presente anche nella street photography, perciò vi faccio una richiesta piccola. Io stasera sarò breve, ma voi però restate fino alla fine perché vedremo insieme come evitare questo maledetto errore, dopo la sigla. Go go Jimmy go go, go go Jimmy go go, Johnny be good. Permettetemi però prima due piccole premesse. Una, una cosa molto importante e su cui fondo ogni singolo contenuto di questo canale è che io non credo di essere responsabile soltanto di quello che dico e poi quello che capite voi sono cazzi nostri. No, è il contrario. Io sono sempre responsabile della vostra interpretazione, o almeno ovviamente fin dove posso, nel senso che io non posso semplicemente dire le cose come voglio perché altrimenti ne verrebbe fuori un casino, perché se considero fin dove arrivo io e non dove arriva l'altra persona, il mio messaggio può essere frainteso in mille modi e questo è un punto fermo in tutti quanti i miei rapporti, anche nei miei rapporti personali. Due, io non sto qui a dire che quello che penso, quello che dico, quello che faccio, come per esempio le mie fotografie o le mie idee, sono il Vangelo. Quello che faccio io è prendere tutto quello che c'è là fuori, tutte le informazioni, la marea di informazioni che c'è là fuori e consegnarlo a voi in maniera più semplice, diciamo anche facile da digerire e poi lasciare che ognuno di voi gestisca come vuole queste informazioni. Quello che faccio esattamente è provare io stesso e spero anche voi a fare un passo in più, cioè valutare non soltanto la teoria ma anche la fonte di queste informazioni e quindi l'applicazione pratica di tutte queste informazioni che esistono. Perché essere fotografi da 30 anni o possedere qualsiasi titolo non ci impedisce di fare degli scivoloni. Cioè anche se io per esempio avessi frequentato l'Accademia di Fotografia, quale diritto maggiore avrei di pretendere che voi prendiate la mia parola come fosse il verbo oppure che prendiate le mie parole come fossero sacrosante e aspettarmi poi che da domani vi lanciate nelle crociate della street photography. Ecco l'embolo tocca anche gli scienziati, quindi attenzione, perché carta canta, sì, ma non sempre e soprattutto la carta non canta per sempre. Perché il fantomatico titolo di fotografo non serve per brandirlo in ogni discussione come fosse uno scettro per fare delle magie. Quello che conta davvero è l'attitudine, cioè l'umiltà di aggiornarsi e mettersi davvero in discussione. Ma torniamo però a bomba sull'argomento perché se no non mantengo la promessa di essere breve e passo per bugiardo e questa cosa non mi va. Sono esattamente più di 200 le cose che ci fregano quotidianamente, che incidono perciò nel modo in cui percepiamo la realtà, prendiamo le decisioni e ci rapportiamo con gli altri. Questi sono i bias cognitivi, cioè quei pregiudizi, quelle convinzioni, quelle alterazioni della realtà che ci condizionano e ci fanno fare un sacco di pasticci. Fra questi pasticci del cervello, fra questi capricci, ce n'è uno però in assoluto che ci frega più degli altri e viene chiamato effetto Dunning-Kruger, oppure illusione della competenza. Detto in maniera gentile, io preferisco dire presunzione dell'ignoranza. Partiamo però dall'inizio e dal motivo per cui voglio parlare proprio dell'effetto Dunning-Kruger in questo canale, che parla di street photography. Perché io mi sto imbattendo ultimamente in qualche critica fuori luogo, sicuramente a me, ma a me frega poco, ma anche e soprattutto mi sto imbattendo in qualche critica ai membri di F4. E seppure io sia un tipo sensibile, diciamo che non sono propriamente uno che si lascia condizionare da qualche criticuccia, o bizza, o dispetto, o intimidazione. Però, come diceva Gigi Proietti, E se qualcuno mi tocca gli effenauti, a me sarà il crimine. E quindi vorrei delineare un punto fermo, almeno da qui in avanti. In un periodo come questo, in cui tutti quanti abbiamo un accesso libero e immediato a una miriade di informazioni, dobbiamo tenere ben presente che sono semplicemente informazioni. Questo vuol dire che non sono né scienza, ma neppure conoscenza. Questo è il motivo per cui, di fronte a un cantiere edile, ci sono milioni di persone che sono pronte a parlare come se fossero degli ingegneri, salvo però poi infiammare il calendario di fronte alle istruzioni per montare un mobile dell'IKEA. E' lo stesso motivo per cui, tutte quante le volte che vado al parco con Dandy, c'è qualcuno che vuole insegnarmi come educare il mio cane. Peccato però che nessuno di queste persone abbia mai avuto un cane che non avesse il logo Trudi sul petto. Allo stesso modo ci sono 60 milioni di allenatori tutte quante le volte che giocano a Nazionale Italiana, e ci sono allo stesso modo 60 milioni di Pavarotti e di Mina che si permettono di commentare il festival di Sanremo senza però aver mai preso un microfono in mano che non fosse quello del cantatù. E poi questa è bellissima da una ricerca del dipartimento dell'Università dell'Illinois, secondo cui il 93 per cento degli automobilisti si considera superiore della media e il restante 7 per cento invece è senza patente. Quindi questo vuol dire che un po' come succede con i morti che non soffrono perché non sanno di essere morti, non soffrono i vivi, la stessa cosa succede proprio per gli stupidi e per quelle persone che scrivono fotografi sul loro profilo Instagram. Ma basta con gli esempi perché sennò facciamo notte e vediamo esattamente da dove nasce l'illusione della competenza, cioè quel pregiudizio mentale secondo cui ognuno di noi è particolarmente generoso con le proprie capacità e secondo cui siamo particolarmente magnanimi con noi stessi. Vi racconto una storia. Era esattamente il 1995 quando un signore di nome MacArthur Wheeler decise di uscire di casa vestito come al solito, però come una pistola in mano, per rapinare due banche nella stessa giornata e ovviamente salutare anche le telecamere di sorveglianza. Dopo poche ore dalle rapine bussa alla sua porta la polizia per arrestarlo, ma lui rimane stupito, basito, meravigliato, al punto da chiedere ai poliziotti ma come avete fatto? Io ho usato il succo. E questa non è una battuta. È andata veramente così perché MacArthur Wheeler era un idiota ma non lo sapeva. Qualche settimana prima lui era stato a casa di un amico che gli aveva svelato per impressionarlo il trucco dell'inchiostro simpatico fatto con il succo di limone, cioè l'inchiostro invisibile. E così MacArthur Wheeler, che non sapeva di essere un idiota, anzi lui pensava di essere addirittura più furbo di Rupin, è tornato a casa e si è cosparso la faccia di succo di limone. Ovviamente ha voluto anche mettere alla prova l'inchiostro simpatico e così si è scattato un selfie con la sua Polaroid, soltanto che però preso dall'eccitazione oppure semplicemente perché gli bruciavano gli occhi, ha sbagliato la mira e probabilmente ha fotografato il soffitto e quindi l'immagine è uscita completamente bianca. Voilà, l'inchiostro simpatico, quindi il succo di limone, ha fatto effetto, lui è diventato invisibile e via, con le rapine. Alla fine delle indagini della polizia, ecco, hanno dimostrato che MacArthur Wheeler non era né pazzo né ubriaco né sotto l'effetto siostante stupefacenti e dopo questa storia lo psicologo Dunning ha dato mandato al suo studente più brillante, un certo Justin Kruger, per indagare meglio su quello che era accaduto, cioè su questa storia che sembrava veramente surreale. Insieme Dunning e Kruger sono arrivati alla conclusione che per quanto sia normale che ognuno di noi tenda a valutare positivamente le proprie capacità, c'è sempre qualcuno però che va oltre e cioè che tende a stimare erroneamente le proprie capacità e le proprie conoscenze fino a condurlo in errore. Ecco, da allora proprio questa illusione della competenza viene chiamata effetto Dunning Kruger, secondo cui chi è stupido oppure ignorante tende a sopravvalutarsi contro invece chi è particolarmente intelligente o si sta formando in maniera seria tende invece a sottostimare le proprie abilità. La riprova della loro teoria sta nel fatto che le persone che sono incompetenti non soltanto arrivano a conclusioni sbagliate, ma addirittura sono prive della capacità di riconoscere il proprio errore, quindi anziché essere perplessi per esempio, impensieriti o confusi dalla loro ignoranza, tendono invece a presumere sulle proprie convinzioni. È un po' la stessa cosa che diceva Darwin nelle origini del mondo, e cioè che è proprio l'ignoranza a generare più fiducia rispetto alla conoscenza. Ma la cosa su cui dobbiamo prestare particolare attenzione è che tutti quanti noi possiamo essere vittima dell'effetto Dunning Kruger. Riusciamo per esempio a malapena far quadrare i conti di casa, però poi abbiamo la capacità di dare la risposta precisa e puntuale per debellare la fame del mondo, per risolvere i problemi dell'inflazione, oppure anche della disoccupazione. Oppure ancora siamo vittime di questo effetto Dunning Kruger tutte quante le volte che siamo capaci di scolare la pasta al dente, e poi ci lanciamo in impietose recensioni su TripAdvisor, su un piatto al ristorante, magari avendo visto soltanto una puntata di Masterchef. Oppure ancora, dopo aver ricevuto 100 like, ci lanciamo in commenti a dir poco pittoreschi su qualunque fotografia, senza conoscere una beata minchia di tutto quello che c'è dietro la foto, il fotografo, o perché è stata scattata, ostentando ovviamente il nostro diritto di parola e il nostro diritto di opinione, salvo poi criticarlo nel momento in cui ci viene fatto notare che sarebbe stato meglio se fossimo stati zitti. Esattamente quello che pensava Umberto Eco quando ha detto che internet ha dato la parola agli imbecilli. Vediamo però adesso qualche piccolo passo da fare per non cadere vittima dell'effetto Dunning Kruger e diventare tutti quanti fotografi migliori, o almeno persone migliori. E questo vale prima di tutto per me, perché il senso di questo video è che tu impari a riconoscere l'effetto Dunning Kruger prima su te stesso e non sugli altri, proprio perché conoscere questo bias cognitivo permette di abbattere la presa di posizione che c'è tra le persone. Questo perché il nostro approccio alle cose è imperfetto e quindi il trucco è non farsi fregare proprio dall'illusione di superiorità rispetto agli altri e bisogna anche imparare a rivalutare concretamente le nostre competenze. E dopo tutto, come diceva Confucio, la vera conoscenza sta nel conoscere il livello della propria ignoranza. Quindi impariamo a scegliere le nostre fonti di informazione e non accontentiamoci soltanto dei titoli strappalike sui social o delle informazioni prese al bar o sul pianerottolo di casa o da chi invece è più bravo solamente ad autocelebrarsi. Piuttosto utilizziamole come delle informazioni per stimolare la nostra curiosità e quindi sviluppare anche il nostro senso critico e poi leggiamo, 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 leggiamo il più possibile. E non lo dico perché leggere fa figli, ma semplicemente perché la lettura ci costringe alla concentrazione, ci permette di assorbire a un livello molto più profondo le informazioni che stiamo cercando, perché la lettura ci concede una cosa particolare che non ci dà niente altro, e cioè il tempo per riflettere. E infine un elogio all'umiltà, credetemi che è bello imparare a dire non lo so e provare a imparare sempre qualcosa di nuovo da qualcun altro. Adesso però vi lascio a scattare le vostre splendide fotografie invitandovi giovedì alle 21 in live con un vero maestro di fotografia e mi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like al video se vi è piaciuto, commentate anche con un properi, tanto per me va bene uguale, ma soprattutto condividete, condividete e condividete. Ciao!